Ora ho fatto due video dell'assaggio gomme di là, in quell'altro canale che c'ho, adesso lo faccio di qua per mangiare di tutta mia moglie. Allora facciamo questa qua, scendiamo, la vediamo un po', questa qui alla coca cola oppure le goleador, però anche le goleador, queste però faccio, però quasi quasi, goleador Allora, come si aprono? Si tira qua la levetta, poi si prende un angolo, si prende l'aletta e si tira, è semplicissimo aprire gomme, eh? Allora, goleador, chiaramente queste sono mod di palla da calcio, di pallone L'odore, l'odore mi ricorda, vi ricordate negli anni 80? Io ero piccolo, ero piccolo C'ero avuto 10 anni, 11 anni, insomma quelle gomme forti, quel sapore forte rosa che c'era il tatuaggio per farsi, per farsi il tatuaggio, quella carta che si bagnava e si faceva il tatuaggio Ecco, l'odore è quello lì, buono, allora vediamo un po', dentro eccolo Guardate che bello, tutto gel Non metto a fuoco nemmeno stamani, vabbè c'è tutta gelatina È favolosa, è un salto nel passato questo, eh? Goleador, buone, 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 queste se vi capita prendetele perché sono favolose Sono grosse, però, buone, il sapore è eccellente Vi saluto, non me la godo con calma